Un bilancio positivo sicuramente di aver raccolto tante stanze, di aver raccolto tanta gente che è stanca di una politica miope, di una politica che nel territorio non vive più, dei partiti, della mancanza proprio dei partiti che non riescono più a farsi vedere in mezzo alla gente. Ecco perché la programmazione nostra, della squadra, del gruppo è quella di continuare ancora a fare il porta a porta. Oggi sono stato a Pantelleria, anche là c'è mancanza di politica, c'è un momento sicuramente di una politica assente. Oggi ci sono circa il 60% ancora della gente che non è convinta di andare a votare e neanche sa che si vota il 5 novembre. Tutto sta partendo in ritardo, è partito in ritardo anche la programmazione del nostro candidato presidente. Io sto cercando di fare il massimo di questa mia competizione elettorale assieme agli altri componenti di questo partito e che sia il Partito Democratico il primo partito in questa provincia.